Quasi 40 anni di servizio per il dottor Pino Silvestri, ora per lui il giusto riposo per la meritata pensione. Un vuoto per i pazienti del COS a Tortora che già qualche annetto fa hanno salutato il dottor Agrippino che con benvenuto ancora operativo fanno parte della vecchia guardia dei medici di base della città di Blanda. I tanti mutuati dovranno pertanto effettuare il cambio del medico di base scegliendo il nuovo tra gli altri professionisti presenti in zona. Qualche giorno fa dunque presso il COS il centro dell'associazione creata dai medici per fornire e centralizzare diversi servizi medici presenti a Tortora pazienti, amici, familiari e colleghi si sono ritrovati per salutare e abbracciare l'amico e medico Pino. Forse non si aspettava che fuori dall'ambulatorio mentre celebrava il suo ultimo giorno in camice bianco potessero arrivare così tanti. Il dottor Silvestri fedele al giuramento di Ippocrate ha sempre ribadito che il suo non è un lavoro ma una vocazione. Il camice bianco nonostante il pensionamento resta sempre cucito addosso. Quello del medico non è un lavoro come gli altri. Un vero e proprio punto di riferimento. Medico condotto disponibile in qualsiasi momento della giornata così lo descrivono i tanti pazienti e conoscenti. Si è laureato nel 1979 a Napoli e da subito ha messo sul suo ambulatorio a Tortora. Il dottor Silvestri oltre il camice ha indossato anche la fascia tricolore da primo cittadino nel suo paese curando così gli interessi amministrativi di Tortora vicino a Dio e forse proprio questo percorso di fede gli ha permesso di vivere meglio i rapporti umani costruiti anno dopo anno e questi rapporti non si consumano certo chiudendo la porta dell'ambulatorio o riponendo il camice. E proprio a Dio si rivolge destinando il primo grazie per ciò che è diventato e per quello che ha ottenuto dalla vita. Nel rivolgersi ai pazienti spiega di aver riscontrato rispetto fiducia che ho cercato di ricambiare. Una menzione particolare dice nel suo messaggio la dedico ai colleghi e collaboratrici di studio. Con tutti ho lavorato bene nel rispetto reciproco. Un vero distacco umano perché è difficile sostituire il proprio medico con il quale il paziente costruisce un rapporto di fiducia. Il dottor Silvestri ha visto crescere e invecchiare qualche generazione sempre con la stessa disponibilità e passione.